Grazie. Grazie. Uno aventi diritto che si erano registrati, hanno regolarmente votato 270 soci, quindi il quorum è 136. Grazie. Siamo soltanto aprendo le schede, non abbiamo ancora iniziato lo scultino. Strangis, Klausi. Trotta, Trotta, Mubrici, Klausi, Strangis, Trotta, Trotta, Trotta. Klausi, Trotta, Klausi, Strangis. Trotta, Klausi, Strangis. Trotta, Strangis. Klausi, Klausi. Trotta, Klausi. Trotta, Trotta, Galella. Trotta, Trotta, Galella. Klausi, Klausi. Trotta, Klausi. Trotta, Klausi. Klausi, Klausi. Klausi, Mobrici. Trotta, Klausi. Trotta, Klausi. Trotta, Klausi. Klausi, Klausi. Trotta. Klausi, Trotta. Trotta, Klausi. Trotta. Klausi, Klausi, Trotta, Trotta, Klausi, 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 Moprici, Strangis, Strangis, Klausi, 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 Moprici, Klausi, Klausi, Trotta, Klausi, Trotta, Klausi, Moprici, Klausi, Trotta, Klausi, 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 Trotta, Klausi, 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 Trotta, Klausi, Klausi, Bobrici, Trotta, Klausi, Klausi. Klausi, Trotta, Klausi, Trotta, Trotta, Galila, Trotta, Trangis, Klausi. Klausi, 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 Trotta, Strangis, Trotta, Klausi, Bobrici. Stangis, Klausi, Klausi, Klausi. Trotta, Klausi, Klausi, Trotta, Strangis. Klausi, Klausi, Strangis, Trotta, Klausi, Trotta, Klausi. Klausi, Klausi, Trotta, Klausi, Trotta, Klausi. Klausi, Klausi, Strangis, Trotta, Klausi, Trotta, Klausi, Strangis. Klausi, Trotta, Klausi, Trotta, Klausi, Trotta, Klausi, 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 Trotta, Klausi, Klausi, Galinda, Klausi. Klausi, Trotta, Klausi, Trotta, Klausi. Klausi, 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 Trotta, Klausi, Trotta, Klausi, Bobrici, Klausi, Klausi, Klausi. Klausi, Trotta, Klausi, Trotta, Klausi, Trotta, Klausi, Trotta, Klausi, Trotta, Klausi, Trotta, Klausi, Rutta, Klausi, 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 Klausi. Rutta, rotta, Klausi. Grazie. Klausi, Bobrici, Rotta, Klausi, Klausi, Rotta, Klausi, Strangis, Rotta, Klausi, Bobrici, Rotta, Rotta, Klausi, Rotta, Klausi, Klausi, Strangis, Lulla, Rotta, Rotta, Klausi, Strangis, Klausi, 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 Mobrici, Klausi, Klausi, Rotta, Klausi, Strangis, Klausi, Klausi, Strangis, Klausi, 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 Strangis, Klausi, 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 Klausi Trotta, trotta, finito. Trotta, trotta, finito. Nicola Krausi voti 119, Antonio Vanella voti 6, Paolo Muprici voti 16, Cettina Strangis voti 24, Rodolfo Trotta voti 101. Si rende necessario pertanto il ballottaggio non essendosi raggiunto il quorum di 136 voti. Il ballottaggio avverrà tra Nicola Krausi e Rodolfo Trotta e comincerà esattamente tra dieci minuti nella sala delle votazioni a fianco delle carrile. E poi andiamo avanti, dalle 5.10 fino alle 18.30. Siamo a pochissimi minuti dall'arrivo delle urne per i due candidati e per l'elezione anche degli organi della fondazione. Volevo approfittare di questo piccolo lasso di tempo per invitare il socio Giovanni Guarrecino a venire qui perché ha da parlare non solo dei cani di guida per il settore responsabile ma anche della richiesta fatta, perché forse non tutti lo sanno, della richiesta fatta dal club di penisola sorrentina di tenere il congresso multidistrettuale nazionale nel 2019, nell'anno della convention di Milano, di tenerlo a sorrento. E questa è una cosa che ci riempie di orgoglio perché la proposta sottoposta al Consiglio dei Governatori è stata accolta insieme a quella di altre località, tra cui Firenze, e quindi nel prossimo congresso nazionale del 25-26 maggio si delibererà da parte di tutti i Lions italiani dove si terrà il congresso multidistrettuale nell'anno della convention internazionale in Italia. Quindi è un'occasione importante e storica, prego l'amico Giovanni Guarrecino dov'è? Di accomodarsi e di riferire sia sul primo che sul secondo piano. Grazie. Buonasera a tutti, cari amiche e cari amici, ringrazio il Governatore che mi ha dato questa opportunità di parlare di un'attività che mi è molto cara, quella del centro di addestramento di cani guida con sede all'Imbiate. è un'eccellenza italiana e per questo io mi sono impegnato in prima persona dopo aver ricevuto l'incarico nel luglio dell'anno scorso. Ringrazio soprattutto il mio staff, tutti i collaboratori che hanno dato il loro contributo, ma in particolare voglio ringraziare i Presidenti di circoscrizione, tutti voi Lions che mi avete aiutato e con il vostro buon cuore mi avete dato l'opportunità di raggiungere degli obiettivi che onestamente pensavo fosse un'impresa ardua a raggiungere. Come voi tutti sapete l'addessamento dei cani guida è un'attività molto costosa. Al centro di l'Imbiate i Lions collaborano con la contribuzione di denaro e la raccolta fondi è una continua ricerca. Quest'anno, grazie al vostro buon cuore, abbiamo raggiunto un buon risultato. Mi spiego meglio. Ogni cani guida costa noi Lions intorno ai 12-13 mila euro. Mi ero prefisso l'obiettivo di addestrarne due, di sponsorizzarne due come distretto. Siamo a metà percorso, anzi a tre quarti del percorso, conto fino alla fine dell'anno di raggiungere l'intero obiettivo che mi ero prefisso. Porto i saluti del Presidente del centro di addestramento dei cani guida dell'Imbiate, Giovanni Fossati, il quale ringrazia l'intero distretto, ringrazia il Governatore, ringrazia tutti voi soci che avete dato la collaborazione. In merito, spero di poter fino alla fine dell'anno raggiungere ancora altri obiettivi. Darò al Governatore nei prossimi giorni il ricavato della nostra attività e che poi verrà data direttamente dal Governatore al centro. In merito alla richiesta fatta di portare a sorrento il congresso nazionale del 2019, la richiesta che faccio a tutti quanti, i delegati, è quella di venire a votare il giorno 29, se non sbaglio, di nuovo a Roma per poter coronare questo nostro sogno. È un'ambizione, penso che Sorrenta abbia tutte le strutture e tutte le capacità ricettive per poter ospitare un evento di tale portata. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e buon proseguimento. Siamo arrivati al clou della serata. Mi chiedevano, e forse ha ragione, di anticipare le votazioni della Fondazione perché nel caso quando faremo lo spoglio per il secondo vice probabilmente si creerà un entusiasmo, un clima tale che evidentemente nuoce alla prosecuzione delle votazioni dello spoglio e quindi è opportuno con la Fondazione gradualmente avvicinarci alla fase finale. Allora pregherei i nostri amici di procedere con lo spoglio della Fondazione e per concludere poi con quello di secondo vice. Grazie. 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 Del vecchio, Burattino, del vecchio, Bianca, Burattino, del vecchio, del vecchio, del vecchio, Burattino, del vecchio, Burattino, Bianca, del vecchio, Burattino, del vecchio, Burattino, 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 del vecchio, Burattino, del vecchio, del vecchio, Nulla, del vecchio, Burattino, Burattino, del vecchio, del vecchio, Burattino, del vecchio, Burattino, Burattino del vecchio del vecchio del vecchio nulla bianca del vecchio del vecchio Burattino del vecchio del vecchio Burattino 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 del vecchio del vecchio del vecchio del vecchio Del vecchio, del vecchio, del vecchio, del vecchio, burattino, burattino. Burattino, burattino, del vecchio, del vecchio, burattino, burattino. Burattino, 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 del vecchio, burattino, burattino, burattino. Burattino, 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 bianca, del vecchio, del vecchio, del vecchio. Burattino, del vecchio, del vecchio, del vecchio, del vecchio, burattino, del vecchio, burattino. Burattino Burattino, 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 Del Veccio, Del Veccio, Del Veccio, Del Veccio, Del Veccio, Burattino. Bianca, del peggio, del peggio. Burattino, 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 del peggio. Del peggio, bianca, del peggio, del peggio, burattino, 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 bianca, nulla, del peggio, del peggio. Burattino, del peggio, del peggio, del peggio. Burattino, burattino, bianca, del peggio, del peggio. Del peggio, del peggio, del peggio, del peggio. Del peggio, burattino, del peggio, burattino. Sergio, a quanto siamo? Ci dici? Sergio, ci dici? 82 del vecchio, 77 burattini così noi siamo con maggior parte allora, del vecchio, burattino burattino del vecchio, burattino del vecchio, burattino 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 del vecchio del vecchio, del vecchio, del vecchio, del vecchio, burattino, del vecchio. Burattino, 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 del vecchio, del vecchio, del vecchio, del vecchio, del vecchio, Bianca, Buratino, 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 Bianca, Buratino, 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 Buratino. De Beppe, burattino Del vecchio, bianca, burattino, burattino, burattino ancora, del vecchio, del vecchio, del vecchio, del vecchio del vecchio del vecchio bianca del vecchio del vecchio bianca del vecchio del vecchio burattino burattino Bianca, del vecchio, del vecchio, o l'ultima, Puratino, del vecchio, Puratino, Puratino, Puratino. Del vecchio, del vecchio, del vecchio, del vecchio, del vecchio, Buratino, Puratino, Puratino, Puratino. del vecchio del vecchio del vecchio del vecchio burattino del vecchio del vecchio da questa urna due schede che appartengono rispettivamente al governatore e al revisore dei conti che chiaramente metteremo nelle opportune allora io vi do questo primo numero però consentitemi che è un numero parziale perché parziale? perché con il beneficio del rispettario io posso benissimo ritenere poiché non ci sono i 270 votanti che possono essere due di qua cioè i due che ci hanno messo di qua invece le due schede stanno nelle altre urne io vi do il numero parziale provvisore come volete voi bianche bianche 14 nulle 3 del vecchio 124 burattino 125 vi prego di non tener conti questo dato perché ci dovete consentire di aprire le altre urne sono i revisori dei conti di aprire le altre urne che ci hanno messo di più che ci hanno messo di più Grazie. Vi ricordo che per i revisori dei conti le schede hanno validità se viene espresso minimo una preferenza, massimo tre preferenze. Vi comincio a dare le letture di queste schede. Francesco Paolo Cirillo, Nicola Venotti, Francesco Paolo Cirillo, Francesco Parente, Nicola Venotti. Francesco Paolo Cirillo, Francesco Parente, Nicola Venotti. Leggo solo il cognome su richiesta di scrutatore. Morro, Bianca, Cirillo Parente, Venotti. Morro, Francesco Paolo Cirillo. Morro, Cirillo, Morro, Venotti. Morro, Parente. Morro, Morro. Cirillo, 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 Bianca, Nulla, Cirillo, Morro. Morro, Parente, Morro, Camforo. Morro, Cirillo, Parente, Venotti. Cirillo, Cirillo, Morro, Camforo. Camforo, Camforo. Cirillo, Parente, Venotti. Parente, Bianca, Camforo. Cirillo, Morro. Bianca, Bianca, Morro. Morro, Parente, Morro. Morro, Parente, Cirillo. Cirillo, Bianca, Cirillo. Bianca, 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 Bianca. Bianca, Bianca, Camforo. Camforo, Camforo. Morro, Parente, Nulla, Bianca, Cirillo. Camforo, Camforo. Camforo, Cirillo, Venotti. Bianca, Bianca, Parente. Camforo, Cirillo, Venotti. Camforo, Camforo. Camforo, Venotti. Camforo, Parente, Venotti. Canfora, Canfora, Cirillo Parente, Cirillo, Cirillo Moro, Bianca, Cirillo Cirillo, Canfora, Cirillo, Nulla, Bianca, Canfora, 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 Moro, Delotti Moro, Delotti, Cirillo, Cirillo, Moro Moro, Canfora, Moro, Parente, Moro, Moro, Moro Cirillo, Cirillo, Moro, Bianca, Bianca, Cirillo, Canfora, Cirillo Cirillo, Moro, Cirillo, Cirillo, Parente, 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 Cirillo Cirillo, Bianca, Moro, Delotti, Canfora, Bianca, Cirillo, Moro, Delotti Cirillo, Cirillo, Moro, Cirillo, Parente, Delotti, Canfora, Canfora Cirillo, 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 Cirillo Cirillo, Cirillo, Cirillo Cirillo, Cirillo, Cirillo Cirillo Cirillo, Cirillo 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 Cir Cirillo, moro, Bianca, 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 moro, Canfora, moro, Bianca, parente, Cirillo, Velotti, moro, Canfora, moro, parente, Canfora, Cirillo, parente, Moro, Benotti, Canfora, moro, Canfora, moro, Canfora, Bianca, Bianca, moro, Bianca, moro, parente, Velotti, Cirillo, Bianca, Moro, Canfora, Cirillo, parente, Benotti, Bianca, Nulla, Nulla, Bianca, Cirillo, Canfora, parente, Moro, Canfora, moro, Benotti, Bianca, Bianca, moro, Canfora, Bianca, moro, Canfora, Cirillo, Cirillo, Canfora, Cirillo, parente, Moro, Canfora, Cirillo, moro, Canfora, Cirillo, moro, Canfora, Canfora, Cirillo, Cirillo, Benotti, Canfora, Bianca, Cirillo, Cirillo, Moro, Canfora, Cirillo, parente, Benotti, Canfora, Cirillo, parente, Canfora, Moro, Moro, Canfora, Bianca, Cirillo, Cirillo, Canfora, Moro, 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 Cirillo, 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 nulla, Moro, Bianca, Cirillo, parente, Canfora, Moro, Benotti, Cirillo, Cirillo, parente, Moro, Cirillo, Cirillo, Canfora, Cirillo, Moro, Bianca, Bianca, Moro, Cirillo, Bianca, Moro, Cirillo, Canfora, Moro, Canfora, Moro, Canfora, Cirillo, Cirillo, Canfora, Moro, Parente, Canfora, Moro, 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 Cirillo, Canfora, Moro, Cirillo, Cirillo, Canfora, Cirillo, Canfora, Cirillo, Cirillo, Moro, Cirillo, Moro, 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 Bianca, Canfora, Cirillo,も Monta, Cirillo, Mogbaro, Cirillo, Canfora,��, Canfora, Casabiniau, Gubernador, Canfora, Canfora, Carola, Cirillo, Canfora, Ciglia, Canfora, porque Moro, Cilinno, Moro, Parente, Bianca, Cilinno, Cilinno, Canfora, Canfora, Cilinno, Canfora, Cilinno, Moro, Cilinno, Parente, Moro, Cilinno, Cilinno, Moro, Canfora, Moro, Moro, Cavito, Cilinno, Cilinno, 79 voti, Moro, 83 voti, Parente, 45 voti, Dei lotti 28 vuoti, bianche 44 nulle 6.